Partono i controlli della prefettura sui fondi del PNRR. 2.317 sono i progetti all'attivo per un ammontare di 800 milioni di euro in provincia dell'Aquila. Ieri c'è stata una cabina di regia su questo e il prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha scattato una foto sullo stato dell'arte. Sono stati analizzati in dettaglio i dati, frutto del monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sull'uso dei fondi destinati in ambito territoriale dal Piano Nazionale di Riprese a Resilienza. La provincia dell'Aquila ha beneficiato di una somma consistente con un impatto rilevante sul tessuto socio-economico. L'analisi effettuata, secondo il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, ha anche messo in luce la grande risposta del territorio provinciale in relazione alla realizzazione dei progetti finanziati con un positivo stato di avanzamento, come dimostrano i dati forniti dal MEF. Sugli interventi di rigenerazione urbana a titolarità del Ministero dell'Interno, i progetti sono 5, due nel Comune dell'Aquila, due a Sulmona, uno su Avezzano, per un totale di 30 milioni di euro. Ogni ente interessato durante la riunione ha esaminato lo stato di avanzamento dei progetti e grandi criticità nei progetti non si sono rilevati anche nel rispetto dei tempi stabiliti. La Prefettura sta supportando tutti gli enti locali con un controllo continuo. Grazie al PNRR sul territorio, anche nel capoluogo di regione, sono stati calati molti progetti di rigenerazione e riqualificazione. Il Piano Nazionale è stato approvato nel 2021 per tentare di rilanciare l'economia nazionale, per incentivare la transizione ecologica e digitale del Paese. Un finanziamento da 750 milioni di euro per la ripresa europea, con un plafondo di 191 miliardi destinati solo all'Italia.